bentornati e bentrovati per il vostro tonio 94 siamo in un video che esce in impatta allora beh come al solito non si so siamo nella solida situazione drip marketing è iniziato e quindi ancor prima che spero che nel tempo che stia registrando questo video non esca altra roba ancor prima di due giorni che esca la patch per noi tecnicamente in asia è scita questo pomeriggio uscirà in asia credo ho già uscita non so sicuro tipo però dovete contare che a noi ci vorrà mercoledì stiamo parlando del drip marketing ovvero quando annunciano su persone i prossimi personaggi su twitter dopo la parte della passione successiva quindi della 4.3 e beh non mi aspettavo se uscisse un personaggio specifico però dato la reazione almeno su twitter a quanto pare a gente gli piace abbastanza come personaggio quindi allora iniziamo con parlare di chi stiamo parlando allora innanzitutto è stata annunciata navia sono molto contento sarebbe dovuta uscire prima secondo me prima di furina secondo me invece di mettere subito nuvillette breezley avrei messo furina e furina e avrei messo navia e magari clearinde perché sono associate nella loro storia nella storyline però di per sé hanno stati aggiunti allora vi leggerò il post su twitch su twitter su x twitter solo una cosa ovviamente è un po complicata questa cosa almeno per me perché io ho 72 wish al momento perché senza e sono free to play praticamente non c'ho praticamente a pagamento più di tanto alla fine intanto compro il battle pass però non sempre quando non mi serve non lo compro però è anche vero che stiamo uscendo dalla patch dell'anniversario e quella patch è stata ricchissima c'è chi ha speso tutto nei punti in breezley e nuvillette invece di come me si aspettavano furina prima o poi ho detto che non esce furina risparmio e quindi questi sono praticamente due patch tre patch due patch di di cosa no una patch e mezzo in realtà di risparmio dunque parliamo di navia allora vi leggerò in trambi i post per tutti e due i personaggi perché ci sono due personaggi parliamo di navia e innanzitutto probabilmente è una 5 stelle presumo perché sono usciti due personaggi di cui uno probabilmente abbiamo solo sentito parlare ed è strano che sia smontato adesso però molto carina come cosa allora passiamo a navia allora navia a elm ciò anche tradotto richiamente però non si può sentire la traduzione capo erede della rosa radiosa del presidente della rosa radiosa praticamente questa spina di rosola sarebbe comandante il capo della spina di rosola leader boss eccetera eccetera a giudicare al suo aspetto non c'è dubbio che navia si l'immagina stessa di una dama di fontane le invece vestiti con abiti elaborati capelli raffini a me lo tradurre dall'inglese direttamente questo è tradotto a cazzo da internet da ria fine nights e bei cappelli e si porta con sé un umbrello con vari gioielli incastonati eccetera eccetera lo sbraccia per le strade della corte di fontane tra le monti così come i luoghi meno sconosciuti del fluve sandra che sarebbe le lefonie avete presente quella zona delle malfarmate della città non è mai stata straordinata il suo vestito lungo fluente nella sua umbrello ingannevolmente pesante quindi presumo che se ci sarà la sua arma sarà una clamor e sarà a forma di umbrello come furina c'ha la spada che sembra un bastone da passeggio vigile come un passerotto non credo sia detto tutto in questa maniera però ah sì più o meno sparro sì la portatrice della buona novella della spina di rosola per chi ne ha bisogno aveva diventato uno dei soggetti preferiti della famosa reporter charlotte nella sala espositiva di the steamer è stata appresa una foto di lega legata al soaring yellow rose che sarebbe la rosa non so se si vuole ponere i soggetti fuori non c'è stato il cosiddetto di scioglio ah vabbè insomma aiuta tutti insomma nonostante sia capo di una mezza gang oddio questo invece è più lungo purtroppo quando eravamo giovani eravamo abituati a giocare una specie di gioco da tavolo praticamente mentre questo non lo posso tradurre mentre voi eravate gli avventurieri io il capo ah quindi forse intende ah praticamente descrive quando da giovane faceva tipo una game master di dnd una cosa del genere ah interessante carina però mi piace navia non lo so vediamo mentre il secondo personaggio è un personaggio che abbiamo solo sentito parlare di cui è stranissimo che non si saremmo aspettati che sarebbe uscito adesso pensavo sarebbe uscito che ne so magari un po' più avanti oppure con clorinde presumo quindi ah tra parentesi la mia ipotesi che clorinde a quanto pare sarà 5 stelle insieme a navia un po' è andata a puttana perché non l'hanno messa nello stessa patch ma vabbè per non dare decisione secondo eh 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 considerando che però noi stiamo andando per la 4.2 e adesso ci abbiamo la questi sono i personaggi della 4.3 penso se abbiamo a che fare con un evento penso se non sbaglio non credo siamo però andando per la run and write il run and write festival quello di fine anno il capodanno cinese perché quello di solito avviene verso gennaio però sono sicuro che ci sia un altro evento di mezzo non credo windbloom ma forse qualcos'altro non lo so vediamo il prossimo personaggio che presumo sia un 4 stelle è di pyro utilizza un fucile ed è capo capitano di una speciale unità della serviglianza di fontaine sto parlando di sto parlando di non so pronunciarlo quel personaggio che freminette nelle sue nei suoi diciamo dialoghi ha di cui ha parlato di quella personaggio che va da lui va dalla stessa diciamo negozio dove va lui a cercare parti e lei va lì per prendere parti e componenti più avanzati e dispensiosi per il suo moschetto e indovina un po' c'ha c'ha una benda c'ha i capelli lunghi e viola di un viola molto intenso tra l'altro molto carino come cosa semiglia un po' un personaggio di kill a kill però sinceramente parlando vi leggo i due post allora innanzitutto vi leggo la prima la prima parte allora Shirzé titolo esecutore di giustizia affilazione capitano della sicurezza speciale e sorveglianza della battaglia e sorveglianza visione pyro costellazione scoleptum no scopele sclo sclopetum e insiferum non so se sia per di il mirino potrebbe essere nell'immagine c'ha un fucile ma dubito sia la sua arma nel senso come arma da combattimento quando si chiama la sua skill figurai se mettono un fucile in sto gioco capitano c'è ancora una volta la imploro dobbiamo rendere più severi i requisiti di ingresso della battaglia di sicurezza e sorveglianza speciale attualmente contiamo tra i nostri membri più piccoli delinquenti membri piccoli delinquenti che hanno sbagliato tutta la corte di fontene combattenti di strada la comunità di preoccupazione di arricchirsi e per si combattere la colibanda di compari e quasi riuscire a rapinare una banca se non l'avesse colto personalmente frequentemente esplorabile il posto con il pretesto di essere un investitore avrebbero potuto benissimo farci per l'amore del cielo dovremmo essere la Maison Gardinèg Gardinè ragazzi non lo so il francese lo sto studiando anche solo per preservare le nostre immagini il favore considerate l'idea di fare qualcosa la nona di una serie di lettere di suppie inviate a cerose del capitano grosso grosciard dei guards insomma in poche parole la sua unità è piena di gente non poco comandabile diciamo un po' come Bruce Lee però in superficie mentre l'altro l'altro posto oh santa madonna anche questo è lunghissimo praticamente è un discorso che viene fatto a un comportati bene o la pattuglia ti prenderà un avvertimento spesso rivolto ai bambini fontaniani disobbedienti da parte dei genitori esasperati non se so l'uomo nero naturalmente quei bambini sono troppo piccoli per capire quanto si ridicono persone di genere potresti essere trascinato via dalla pattuglia di sicurezza e sorveglianza speciale per essere andato a letto troppo tardi aver mangiato uno snack dopo averti lavato i denti o aver preso brutti i voti in realtà le uniche persone che la pattuglia sta davvero cercando sono famigerati criminali man mano che i bambini crescono e imparano questo questo avvertimento perdono rapidamente il loro affetto ma alcuni membri questo tipo di educazione quando notano che i bambini in estate escevano via silenzialmente mentre si avvicino per loro come la vedono come dipingere un'immagine del genere della pattuglia non potrebbe essere più inappropriato se si permette alla gente di continuare a dire queste cose allora la famigerata reputazione della pattuglia incoverrà come un'ombra sui figli di Fontaine quanto tempo rimarrà lì cosa c'è che non questa è la risposta bisogna deve occuparsi di documenti spero non lo ricorderanno sempre dovrò trascinare via davvero però ripeto è partito allora se ve la devo descrivere come personaggio se non l'avete visto il tweet è praticamente sembra avete presente le parate americane quelle con la banda e ci sta il quello che sta davanti a tutti non mi ricordo come si chiama il direttore di banda col bastone il cappello lungo che sembra una tuba però c'ha tipo una visiera non so se avete presente sembra uno di quelle cose il capobanda però della banda proprio musicale quello intendo che fa anche tipo ogni tanto majorette col bastone una cosa del genere assomiglia non è male d'aspetto devo dire mi piace come cosa perché sembra totalmente estraneo fino adesso a un personaggio così colorato forse è per questo che la ho inserito insieme a Navia che anche lei è molto più colorata gialla eccetera interessante sarà interessante vedere anche la sua arma ripeto ovviamente non ci avrà mai fucile come arma a meno che non la facino non penserete che la facino come no non la faranno come come Charlotte non staranno a mettere questa cazzata che siccome Charlotte ha la telecamera utilizza la telecamera per attaccare e quindi è una catalyst user e lei usa il fucile per attaccare una catalyst user no no non sarà così te immagini però avrebbe senso cioè sarebbe un escamotage per evitare di fare per forza il fucile come arma e metterlo più avanti per non metterlo proprio come arma forse allora il fatto che non segliscono le armi da fuoco come armi probabilmente ha a che fare con la censura cinese forse non lo so ripeto la Oioverse è cinese ragazzi i cinesi fanno dei bei gaccia in effetti recentemente ho anche giocato reverse 1999 strano molto strano l'ho disinstallato dopo due giorni perché no vabbè l'ho disinstallato perché avevo problemi un attimo a fare una cosa mi serviva la memoria fare un aggiornamento al cellulare l'ho cercato di ristallare non me l'ha più installato però ci ho giocato tipo ho fatto tipo due su tre capitoli stavo facendo il terzo capitolo quando l'ho disinstallato è strano raga è strano molto strano e poi è uno yuri quindi se vi interessa gli anime yuri potete tranquillamente giocare col gioco vabbè non è detto però è solo una però è strano ripeto molto strano forse è un po' troppo strano cioè veramente eppure io ho giocato giochi strani anche quindi boh e niente al momento sono questi spero non sia uscito nient'altro al momento di uscire questo video niente faccio vedere la posta se avete visto sui post se vi interessa dite adesso basta non faccio furina penso a navia personalmente da una parte sono contento che non esca insieme a clorinde perché così se voglio posso puntare anche a navia posso puntare ne pullare navia e poi clorinde più avanti il problema è che se clorinde non sta insieme a navia vuol dire che clorinde probabilmente è una 5 stelle come navia il che male molto male ora al momento ho il 50 e 50 sul banner d'evento quindi chi lo sa niente ci vediamo al prossimo video ragazzi fatevi vedere la vostra se fosse video can play e niente ci vediamo al prossimo video ragazzi vi ricordo con chi mi pade la mano si può cambiare il mondo bye bye